benvenuti a un nuovo tutorial Revo i somni qui vedremo come giocare con turi e ordino coso bene lasciamo partiamo e lasciamo andare avanti turi che prima ho vinto io e ordino coso iniziamo a mazzolarlo lo sbattiamo su i tronchi lui adesso no sa ma ci stiamo davanti lo facciamo andare gli diamo l'illusione ma gli diamo interno e non siamo lo buttiamo sull'erba dopodiché teniamo larga la traiettoria stiamo davanti gli rompiamo le scatole non siamo stringiamo la traiettoria allarghiamo lo buttiamo fuori non siamo non siamo povero ordino coso eccolo qua stringiamolo sulla staccionata sbam lo siamo di nuovo interno questa volta c'è sfuggito ma possiamo sbatterlo come un flipper in due case grande ordino coso quattro punti due case un punto via ecco che ci sfugge ma attenzione alla catasta per cui abbiamo fatto staccionata due case una catasta avrà finito di sbattere ordino coso forse ce la fa no anche la roccia ordino coso 10 punti di roccia dai che ce la fai puoi recuperare ordino coso puoi recuperare niente ordino coso non se la fa terzo posto per ordino coso flash neanche pervenuto turi primo in soltezza al prossimo tutorial grazie a tutti grazie a tutti Grazie.